Dopo 42 anni di onorato servizio abbiamo pensato che il nostro mensile fosse in qualche modo da rinnovare, da migliorare, da rendere più adatto ai tempi. Ci siamo avvalsi della collaborazione di questo grande socio americano che si chiama National Geographic e il risultato di tutti questi lavori è quello che adesso presentiamo in questo momento ed è Turing. Turing è la unione di Turing Club Italiano, la nostra associazione, e del National Geographic americano. Per sintetizzare questo nuovo prodotto che andrà ad essere il giornale dei soci, diciamo che deve essere bello, utile e autorevole. Bello perché nei servizi fotografici e giornalisti sarà sicuramente il meglio che si potrà trovare in giro, utile perché è uno strumento sia per i soci sia per anche i lettori per girare il mondo e per girare l'Italia, autorevole perché rappresenta un'autorità, il Turing è una grande storica associazione che in qualche modo vuole dire la sua sul mondo del turismo, sul paesaggio, sul territorio, sul nostro ambiente e quindi abbiamo trovato questa soluzione. Turing, il nostro modo di viaggiare, questo recita il sottotitolo della rivista nuova perché vuole sottolineare ancora una volta che l'importante non è soltanto la destinazione ma il modo attraverso il quale noi raggiungiamo queste destinazioni, che è un modo leggero, delicato, non fracassone, rispettoso della natura, dell'ambiente e anche un modo lento di viaggiare, il nostro modo di viaggiare. Grazie.